Amici, l'ho visto con i miei occhi in via libertà, si sono incontrati, mi dice Arturo, ma tu sei? Dice, l'apoggio camminò per la cossia, Arturo. Dice, io sono, come è stato? Dice, Arturo, ma che sembriaco che la matemata? Dice, ma quando mai, dopo una vita, trent'anni di lavorare alla costa crociere, mi rimosco il moto ondulatorio della nave? Dice, scusami. Dice, allora è un paio che mi dice, figlia di sacco, ma non è la cossia. Dice, scusami.